Bene, 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 Edgar. Ci siamo ormai. La spada di Saturno finalmente sta per tornare tra le mie mani. Sì, la pozione ormai deve aver avuto effetto e quello stupido ragazzino avrà già perso la memoria così lo posso manipolare molto più facilmente. Sì, la spada di Saturno è potentissima. Una volta che la avrò tra le mani non ci sarà vampiro, mostro, fantasma, demone, capace di battermi. Purtroppo anni fa il cacciatore se ne impossessò e per metterla al sicuro la nascose in una cantina di una chiesa sconsacrata e fece un incantesimo molto potente, uno scudo che ancora oggi la protegge e nessun vampiro può oltrepassarlo. ma soltanto chi ha il sangue del cacciatore può oltrepassare la barriera e recuperare la spada. È per questo che mi serve il ragazzino. Così diventerò il vampiro più forte del mondo. Beh, ancora più forte di quello che sono già ovviamente. Ma abbiamo solo 24 ore. La pozione non dura di più. Quindi devo trovare quel ragazzino. Devo mandarlo a prendere la spada con una scusa. L'hai visto? Dove si sarà cacciato? Con il maledetto ragazzino sarà in giro qualche bar. A fare una delle sue solite risse con altri vampiri adolescenti come lui. non vedo l'ora di liberarmene Edgar. Dov'è? Ho sentito un rumore, forse sta arrivando Edgar. Nasconditi. Oh, ecco ti. Ti stavo cercando. Beh, che ti succede? Hai una faccia un po' strana. Ti senti bene? Sì, hai l'aria un po' confusa. Cosa ti è successo? Ti fa male la testa? Non ti ricordi nulla? Davvero? Nulla. Proprio nulla, nulla. Beh, sei a casa tua? Sì? E io sono tuo padre? Sì, figlio mio. Siamo a casa nostra? Come fai a non ricordartelo? Deve essere per quella botta che hai preso in testa ieri sera? Te la ricordi? No? Beh, ieri sera sono entrati dei vampiri. Sì, volevano i nostri tesori di famiglia. Quindi c'è stata una rissa e tu, come al solito, ti sei buttato cadendoti il più forte di tutti. E ti hanno dato una grande botta in testa. Meno male che ci sono io, tuo padre, sempre pronto a difendere la mia creatura. Sì, è così. Certo che sono tuo padre. Volevo dire, non te lo ricordi bene perché adesso sei un po' frastornato. Però sono sicuro che domani ti sentirai molto meglio. Fidati di tuo padre. Comunque ti stavo cercando. Sì, vedi, mi ha fatto visita la strega Inet e mi ha detto che ho letto le stelle. E a quanto pare questa notte di luna piena è l'unica notte in cui tu, che sei il prescelto, puoi recuperare la nostra spada di famiglia. La spada di Saturno. Non te la ricordi? La spada di Saturno apparteneva alla nostra famiglia. È una spada piena di potere. E un giorno ci è stata rubata dal cacciatore. Mai sentito? Oh, ti suona qualcosa? Beh, è un stupido umano che è morto. Comunque, lui l'ha nascosta nella cantina di una chiesa sconsacrata che si trova su una collina. A un'ora da qui. Sì, esatto. E ha fatto un incantesimo molto potente per proteggerla. È come uno scudo. E noi vampiri non possiamo oltrepassarlo. Sì, perché ci bruciamo immediatamente. Ma tu, caro mio, sei il prescelto. Come sarebbe non è possibile? Me l'ha detto la strega Inet. Sai che te hai la strega più potente del mondo? No, certo che no. Non te la ricordi bene. Beh, comunque. Abbiamo solo questa notte per recuperarla. O meglio, tu la puoi recuperare. Io non sono il prescelto, purtroppo. altrimenti sarei andato subito. Come sarebbe che ti importa di quella spada e della nostra famiglia? Lo so che adesso non ti ricordi bene, però la nostra famiglia è molto importante e dobbiamo recuperarla. Così ci possiamo vendicare di quei vampiri che ti hanno malmenato. Esatto. No, si trova sulla collina azzurra, in uno scantinato. La chiesa è sconsacrata, quindi puoi entrare senza problemi. E lì c'è la spada in un baule. Sì, tu lo potrai recuperare. Normalmente solo il cacciatore o i discendenti del cacciatore lo possono oltrepassare, ma, per fortuna, anche noi vampiri abbiamo qualche prescelto. Certo, devi andare subito alla notte breve. Domani già non sarà più possibile recuperarla. Ma mi raccomando, non lo dire a nessuno. No, non farne parola con nessuno. Dopodiché, saremmo i vampiri più forti del pianeta. È una promessa, figlio mio. Certo. Sì, vai subito. Io ti aspetto qui. Sono sicuro che te la caverai, sei molto in gamba e intelligente. Non a caso, sei mio figlio. Bene, vai. Bene, 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 Edgar. Il ragazzino è andato. Mi porterà la spada, o almeno spero. E allora, finalmente, tutto il suo potere entrerà dentro di me e sarò potentissimo. E tu sarai la mia spalla, Edgar. Lo sai che senza di te non potrei farcela. Certo, sei il mio migliore aiutante. Speriamo che torni presto con il ragazzino. Spero che non si cacci in qualche altro guaio. Non mi fido molto, ma... Mi serve. È l'unica persona che può portarmi quella spada. Bene, Edgar. Non ci resta che aspettare. La notte troppo cofinirà. Oh, ecco ti, finalmente. Ero un po' in pensiero. Allora, sei riuscito a recuperare la spada? Bene, dove? Dove? Fommela vedere. Eccola. Eccola. Finalmente. La spada di Saturno è ritornata. Sapevo che ce l'avresti fatta. È bellissima. Con questa, figlio mio, saremo invincibili. Ah, è proprio come me la ricordavo. Ehi, aspetto un attimo. Questa non è la vera spada di Saturno. È una comunissima, stupidissima spada. Cosa vuol dire? Sono quasi sicuro che non è questa la spada. Ehi, un momento. L'hai tu, la vera spada. Cosa significa? Chi è questa gente? Come sono entrati? Chi sono questi vampiri? Cosa ci fanno a casa mia? Come sarebbe mia tesona trappola? Di cosa stai parlando? Allora, parla. Ah, tu sapevi già tutto. Hai fatto finta di credermi per tendermi una trappola. Come facevi a sapere già tutto? Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Edgar? Non è vero. Edgar non mi tradirebbe mai. Edgar? Edgar? Cosa significa questa storia? Hai raccontato tutto, ragazzino? Cosa? Hai fatto per Edgar una pozione qualche giorno fa? Che pozione? Ah, una pozione che l'ho obbliga a dire la verità sempre? Come è possibile? Ah, quindi tu sospettavi già che tramassi qualcosa? Hai fatto per Edgar questa pozione di nascosto? Così lui ti ha detto la verità. Ho capito. Sei molto furbo. Pensavo fossi più stupido, invece mi stupisci. Beh, adesso cosa vuoi? Vorresti impossessarti di casa mia? Vorresti diventare il vampiro più potente del mondo? Caro mio, anche con una comunissima spada io riuscirò a battere te e tutti i tuoi amichetti. Anche perché tu non sai bene come si usa quella spada, quindi... Non mi credi? Va bene? Allora, dieci contro uno. Perfetto. Vi farò vedere io chi è il vero vampiro qui dentro. Fatevi avanti. Non ho paura di niente. Bene. E questo era l'ultimo. Solo un briciolo di cenere. A quanto pare sei rimasto solo tu. Beh, caro il mio ragazzino, adesso dovrei farti fare la stessa fine, ma... Sai una cosa? Sei stato bravo? Sì, sei stato abbastanza sveglio. E a me piace vincere. Ma più di ogni altra cosa, mi piace avere dei nemici intelligenti. Sì, anche perché altrimenti la nostra lunga, eterna vita sarebbe troppo noiosa. Quindi, mi diverti. E mi diverte avere un nemico come te. Per questo ti darò una possibilità. Dovrai sparire da qui per sempre, fuori da casa mia. Ma ti consiglio proprio di sparire dalla città, perché la prossima volta non sarò così buono. Spero di non rivederti mai più. O meglio, prega che io non ti incontri mai più. Perché la prossima volta non ti risparmierò. E adesso consegnami la spada e fattene fuori di qui. Beh, addio. Si spera. Edgar, ecco sì, quel ragazzino ci ha preso in giro. Beh, ti perdono perché comunque la pozione aveva un effetto su di te che non potevi controllare. Hai dovuto dirgli la verità. Adesso cercheremo la strega in ente e cercheremo di far annullare l'effetto di questa pozione che ti ha fatto bene con il ragazzino. Ma, visto che sei obbligato ancora a dire la verità, dimmi Edgar, sono o non sono il miglior vampiro del mondo? Ah! Grazie. 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 Grazie.